Scaldano Ionico Deve essere una frazione del provincio del... Do cazzo è stato posto! Operazione Vacanze Tiriamo indietro le panze Tutte le costumette da un gioco Salve! Benvenuti a tutti! Mamma mia, basta con queste foto, no? L'ultima, l'ultima! Prena! Mamma mia! Sì, guarda! Ma che? Non è voluto! Ha capito, mo? Scusi il ritardo, ma ci siamo persi Perché ci sapeva una cartina, ma... E la siete fumata! Vuoi rimasti con 50 euro? Ma che è il pazzino che ci paghiamo? E Nando Buccia con la B de Buccio Sono il 2200 euro E questa sarebbe la tua idea? Qui non ci trova nessuno, siamo isolati Tu padre non ci arriverà mai La mia chiave, per favore Arrivederci Mi devi dire dove si sta nascondendo mia figlia Che quella è più furba di suo padre Stai come un sorcio sulla groviera Ma quella è proprietà mia Ragazzo? Signore desidera? Io voglio rimanere solo stasera con quella fata Non problema Ma lui è il capovillaggio E io sono desiderato di tutta la baracca Ma io giuro che sto becco Io lo taglio a pezzettini A porzioni io faccio Quando eravamo rimasti Non mi ricordo la pagina Fammi male Sdrumami! Alla scusa Italiana mafia, mafia! Scusa, scusa, scusa Oddio Mi ricorda il culo di mia zia Ah, italiana culo! Ha 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 Grazie a tutti.